Se un ghost viene ucciso, il suo corpo viene steso a faccia in giù, in direzione della patria, l'arma al suo fianco. In questo modo, quando i nostri caduti vanno all'altro mondo, possono vegliare su di noi e tenere d'occhio il nemico. Papà se n'era andato, per sempre. Io e Logan c'eravamo ancora, la federazione c'era ancora, e anche l'Orc c'era ancora. La guerra non era finita, per niente. Addio papà, non sarò mai come te, ma morirà provandoci. Morirà provandoci raga, morirà provandoci. Flash! Sud America USS Liberator, qui Phantom 2-2 in approccio finale. Ricevuto Phantom 2-2, via libera, tutto pronto all'atterraggio. Dobbiamo seguirlo! Negativo, Ash. I satelliti federali si stanno posizionando. Una volta attivati, i Fed terranno in scacco il mondo intero. Qual è il piano? Rischiare tutto quello che abbiamo, inclusa la nostra ultima porta aeree. Per puntare dritti al cuore del territorio federale. Li colpiremo a terra e in orbita. Siamo al tutto per tutti. All'inizio ci servirà una squadra a gosta a terra. D'accordo. E tu sarai al comando, Ash. Non vieni? Ti guarderò le spalle. Coordinerò le tue risorse. Tuo padre era un grande. Un leader nato. E voi due vedeva lo stesso potenziale. Tieni, Logan. Questo era suo. Che c'è questo? Oh, Dio! Sei stato grande. Ora starei con me, Rick. Sarà al sicuro. A tutte le unità, forze federali nello spazio aereo. Tutti ai propri posti. Ci siamo. Difendiamo il ponte e troviamo un trasporto per la stazione satellitare. Flash, questa puntata. È per te. Tutti ai propri posti. Ci stanno portando. Andiamo, andiamo. Ma perché non corri? Siamo dove e quando vogliono. Saremo cancellati. Respingiamoli e difendiamo le forze d'invasione. NEMICI SUL VOLDE! ARLETI RODRI RIPETO ARLETI RODRI RIPETO ARLETI RODRI CHE MI CHI... FAMME VIALONI I BAGGED! Allora, uno. Due. COGLIONI! FAMME VIALONI APRIAMO UN VARCO! NEMICI AVA BORDO! RIFORCI IN ARRIVO! CONTANTO VITICO INTERVENGO! FAMME VIALONI! Gli arati! ALTRI 10 BERSALIA E DISTANTA ALLERTA 5! SALIRE SUL PONTE! NEGATIVO! NEGATIVO! SPARCIO AEREO OTILE! SONO OVUNQUE! ATTERRANO SUL PONTE POSTERIORE! PERFELLI SECONDARI VERSO TURRO URAUER! Sì, vediamo con questa dove atterri, ciccio. Bello, bello ciccio. Vediamo dove atterri con questa. Bocca. Scrotella. Sì, stunnatela tutta, stunnatela. Non mo' la, va. Quello si è preso il posto migliore. Che l'ho arato, scusami. Questo pezzo di merda che è stato lì, dietro un cadavere. Campera. Camperatore di cadaveri. Sulla vendetta. Questo come... Com'è incredibile. Non lo vede nessuno. Basta. Segui. Seguito. Allora quanto manca al decollo dell'Osprey? Stiamo caricando adesso. Sarà in volo tra due minuti. I comandi di puntamento. Vedi che mi si metti. Parate i sorfoli ravvicinati. Tenetevi pronti a segnalare. Ci servirà un trasporto per unirci all'assalto contro la stazione satellitare. Ulle. Ulle. Un trasporto. A tutte le squadre, Zodiac federali in arrivo a nord. Logan, al piano della nave. Forza, stanno abbottando la nave. È un secondo. Sto piottando come i maiali. Armi pronte. Contra i pronto al decollo. Ci arrappicano sul fianco della nave. Valle arrappigano, Zodiac. Chi è? Attenzione. Una tazzina di presidenti. Ci juntano la Carolina da est. Dai, è finito. Uomo a terra. Non parlo a terra. A tutte le squadre. Rinfanziamo gli stadia. Arrivano imbarcazioni. E le puni. Basta. Gustavo. Non devono salire sul poste. Usiamo lo spray. Lancia i missili. Lancia la merda. Oh. Questo muore. Vai, così mi sistema sta ceppa di minchia. Sì, è veramente distruttivo. Vedete che cazzo ha alzato. Per l'M27. Mamma mia. Bello sto coso. Bearoczì azzì. Madonna. L'accolzza. E beh. segui segui bravo cane segui oh ma sei coglione vai il fuoco dell'inferno oh my god ok secondo adesso te faccio vedere io come lo distruggo ok 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 voy e la mano andava antiso vai questo è line madonna quanti so questi hanno speso tutti sti soldi velivolo a destra velivolo finale abbattuto ripeto velivolo abbattuto ok ok porti partiti e diretti alla stazione satellitare è fatto logan la nave è salva con le forze d'assalto comando abbiamo un passaggio affermativo vai per sé in arrivo il l'ora da segnalo attacchi orbitali multipli in arrivo i satelliti sono porca troia adesso voglio dire che cosa gli dire al satellite oh oh l'aereo l'aereo la torre viene giù alla tua destra dai il bamboccio attenzione all'elicottero forza tagli se no mori ah sono state le armi orbitali quei bastardi le hanno attivate non possiamo fallire ci uniremo alle forze d'assalto per distruggere la stazione satellitare o per noi è finita grazie